Meghan Markle e il principe Harry hanno colpito l'orso con la loro raffica di accuse contro la famiglia reale, con un esperto che ha avvertito che le affermazioni più recenti della coppia potrebbero essere state un passo troppo avanti. Il duca e la duchessa del Sussex hanno entrambi fatto una serie di apparizioni televisive negli ultimi mesi, che hanno visto la coppia parlare della vita come membri anziani della famiglia reale. A parte la risposta della regina alle affermazioni fatte nella loro prima intervista con Oprah Winfrey, il palazzo è rimasto a bocca chiusa e si è rifiutato di rispondere alle affermazioni schiaccianti di Meghan e Harry, come da tradizione. Ma un esperto reale ha affermato che il palazzo è pronto a scoppiare e potrebbe iniziare a contestare le accuse fatte dai Sussex. Rebecca English, royal editor del Daily Mail, ha avvertito che Meghan e Harry stanno prendendo a pugni l'orso con i loro ripetuti commenti che criticano lo studio. Punto. Sostiene inoltre che il palazzo potrebbe raggiungere un punto di svolta in cui decide di rispondere pubblicamente alle accuse. L host di Mailplus ha dichiarato. Il palazzo è sempre andato con l'approccio mai lamentarsi, mai spiegare. Possiamo davvero aspettarci che continui così? Sicuramente ci sarà un punto di svolta. L'esperto ha aggiunto. Buckingham Palace sinceramente non vuole essere coinvolto in una partita pubblica di gergo con Harry e Meghan. Detto questo, stanno stuzzicando molto l'orso e le persone hanno ragione a chiedersi se ci sarà un punto di svolta. Il duca e la duchessa del Sussex hanno fatto una serie di affermazioni incendiarie sulla famiglia reale nella loro prima intervista televisiva con Oprah, trasmessa all'inizio di marzo. La coppia ha accusato di razzismo un membro della famiglia senza nome, ha affermato che Meghan ha ricevuto poco sostegno quando si sentiva suicida e ha affermato che al figlio Archie è stato negato un titolo reale. Da allora, Harry si è aperto sulla sua educazione e ha parlato del suo dolore e sofferenza genetici.